Buongiorno amici, bentornati sul nostro canale, sul canale di Simo è Vero. Come abbiamo detto nello scorso video, ve lo lascio qui sopra se non l'avete visto, oggi prepareremo insieme la marmellata confettura di fichi, con i fichi proprio del nostro orto. Ne abbiamo raccolti diversi chili e abbiamo deciso di fare appunto queste preparazioni di marmellate. Ovviamente saranno destinate in parte a noi, in parte alle nostre famiglie e a chi vorrà acquistarle. Se fate parte insomma delle persone interessate all'acquisto dei nostri prodotti potete contattarci alla mail che vedete nell'info box qui sotto oppure direttamente nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.